e adesso io mi accomodo lì, insieme a voi in questo fantastico anfiteatro prima però, col vostro applauso, l'età del TAP grazie mille capo dai, grazie a tutti vai Jessica buonasera a tutti, ma siete tantissimi grazie, ma che stai facendo? è nuda, sto studiando ma come stai studiando adesso? è certo, si sa che ce la... non dire quelle tue male parole sessione estiva ma ci fai ricombinato mi hai fatto sferire quelli del pubblico quelli si volevano passare una serata tranquilla senza pensare allo studio e tu li hai fatti intossicare io la sono intossicata che tra qualche giorno mi sale e non c'ho niente ma stai tranquilla tanto lo sanno tutti c'è l'appello di luglio, l'appello di settembre, di dicembre, di gennaio eh sì, così mi lauro tra 90 anni ancora e basta oh, ma se sta sotto il bianco le cose più importanti ah, le cose più importanti la cominciamo, non ho questa esibizione? va bene ciao, amore mio, ci vediamo dopo ma sei pronta? sono pronti ah, cominciamo 5, 6, 7, 8 ciao a tutti siamo le TAP del TAP e ci chiamiamo così perché siamo TAP è vero, sono TAP però faccio il terzo anno di giurisprudenza e per ora sto studiando diritto penale eh, 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 eh diritto penale in che senso? eh, mi chiamiamo no, eh comunque, anche io sto studiando un modo per riportarla alla vita sociale vita sociale? mmm, è che materiale? ma tu sei fuori, eh? io i professori sono strampalati eh, tranne uno oh, è un giro meraviglioso il professore Playboy che ogni volta che lo vede iiii, iiii, iiii senti i professori oh, oh, oddio, pensa ah, 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 ah vedi che l'altra volta non mi scollava gli occhi di dosso ah, 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 ah Gresy, ti stava interrogando e viva che ti guardava vedi che aveva uno sguardo perso sai secondo me cosa pensava? ma quanto farra chissà vero e poi che voce ha cuore popolino? Ma la smetti di prendermi in giro Ma come posso non prenderti in giro? Ogni volta Non so niente Trenta Penso a me che prendo sempre 18 Ma certo, tu non studi Ti pare che non lo so che a lezione stai sempre su quella Nesquik Nesquik? Netflix ignorante, mamma mia Oh, vedi che qua stai parlando con un avvocato Avvocato? Quando ti laurei? E manco E scusa, tu di questo passo in che cosa ti dovresti laureare? Un scienze delle serie di voi? Eh, scienze delle serie di voi Ma magari Tu ci scherzi? Ma di quanti episodi di Grey's Anatomy ho visto? Sono pronta per fare la dottoressa E che c'entra? Allora io che guardo spesso Ciao Darwin Chi sono? Madre natura E caso mai? La canare Sì, vabbè, ciao, me ne torno a studiare Ma che stai, che stai? No! Dobbiamo salutare il pubblico con una bella canzone E va bene 5, 6, 7, 8 E ancora un'altra estate arriverà E passeremo i nostri giorni all'università Niente cuffie nel mare Non inesserati a ballare La volla di studiare Tanto non si arriverà Ciao Mede fps Studiate, studiate Spello, ma tutti i valori che avevanno Studiate, studiate E seguite le tappe E danpe eORimosci Sì Ciao 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 Grazie.